Benvenuti su AMF Channel. Sabato 8 giugno su Canale 5 andrà in onda l'ultimo episodio della popolarissima sopopera turca Terra Amara. La serie, che ha debuttato il 4 luglio 2022, ha catturato il cuore di milioni di telespettatori italiani, portando intrighi amorosi, conflitti e colpi di scena con Zuleyha come protagonista indiscussa. Scopriamo insieme come si conclude questa vincente saga. Nell'episodio finale, mentre Abdul Kadir e Betul riescono a oltrepassare il confine, Vaap, bloccato dai controlli, è costretto alla fuga. Tuttavia, Zuleyha, con l'aiuto di Fikret, riesce a catturare Abdul Kadir e Betul e a consegnarli alla giustizia. Betul viene condannata a 24 anni di carcere, mentre Abdul Kadir ha l'ergastolo. Anche Asmet viene arrestato per l'uccisione di Sanye e Gulten, ricevendo anch'egli una condanna all'ergastolo. Zuleyha, soddisfatta di aver portato giustizia a Kukurova, aiuta Fikret e Zeynep nei preparativi del loro matrimonio. Tuttavia, i colpi di scena non sono finiti, Vaap, deciso a vendicarsi del fratello Abdul Kadir, assalta la villa con delle bombe. Fortunatamente, viene fermato e arrestato. Per Zuleyha arriva finalmente la serenità, può dedicarsi ai suoi figli e iniziare una nuova vita felice con loro. L'ultimo episodio sarà trasmesso in prima serata su canale 5 sabato 8 giugno e sarà disponibile anche su Mediaset Infinity. Per chi già sente la mancanza delle avventure di Kukurova, tutte le puntate sono disponibili on demand gratis su Mediaset Infinity. Inoltre, ogni giorno alle 19.40 su Rete 4, vanno in onda gli episodi della prima stagione. Le storie di Terra Amara si concludono con la quarta stagione. Al momento, non è prevista la realizzazione di una quinta stagione. La serie è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, insieme a contenuti esclusivi. Cosa ne pensate voi? Ditelo nei commenti. Ricorda di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Grazie per aver guardato il video.